Un testo che viene spesso consigliato agli studenti che devono dare la maturità si chiama Miti e coscienza del decadentismo italiano, by Carlo Sannari. Cosa si dice in questo trattato? Dopo la caduta del romanzo determinista ottocentesco, estremamente la letteratura ha due strade. Può o aprirsi alla creazione di nuovi miti, che è l'esempio del poeta Vateri d'Annunzio, ma anche del santo di Fogazzaro, o ad esempio del fanciullino di Pascoli, o chiudersi nella propria coscienza dell'esempio di Italo Svevo, quindi di Zeno Cosini, ma anche di Adinano Meis. Eppure, personaggi come questi, questi inetti, sembrano suggerirci qualcosa in più della loro inettitudine in sé. Sembrano dipingere una storia universale. 3, 2, 1, grazie al c***o! La letteratura è proprio questo, una serie di storie particolari, che però sono specchio di una storia universale. E' il protagonista di questa storia, altro non può essere che l'uomo, e quindi persino eduche l'umanità. Però, che maschera, o meglio, quale declinazione prende questo uomo, questo protagonista di questa storia universale, che altro non può essere l'uomo, è una questione che dipende dalle diverse epoche storiche. Se uno legge un romanzo del Settecento, ad esempio, ma ti viene il complesso di inferiorità. Gente che sopravvive in mondi allucinati, su isole deserte, grandi condottieri militari, è veramente un complesso di inferiorità, l'Anzian Ghoul. E non parlo mica solo dei romanzi di avventura, questa cosa c'è anche nel romanzo realista. Il Tom Jones di Fielding e la Pamela di Richardson, che sono gli archetipi del supereroe borghese, disegnano appunto questi veri e propri supereroi, superuomini. Tom Jones è un trovatello cresciuto da un signor aristocratico, Mr. Harworthy, e che da questo signor Harworthy ha preso tutte le belle doti borghesi, quindi bello, generoso, intelligente, astuto, e che naturalmente, da manuale, ha un grande amore. Sofia è un grande nemico, Blifil. Questo Blifil, con i suoi sorti e fuggi, lo metterà in cattiva luce e lo farà cacciare di casa. Quindi Tom Jones si regherà a Londra e si troverà nelle tarantelle tipiche del romanzo picaresco, un po' come Renzo a Milano, e finirà in prigione, un po' come Renzo a Milano. Tuttavia, Harworthy, arrivato a Londra, sente i racconti di Madame Miller e di Nuttingill esaltare la generosità e la realtà di Tom Jones. Sì, Eondeus ex macchina, anzi, per essere precisi, è un dio barcleriano ex macchina, ne ho parlato qui nello specifico del dio barcleriano. Tom Jones, quindi, sarà riconosciuto come il grande uomo che è e Blifil come un cattivo machiavellico. L'omologo femminile di Tom Jones è la Pamela di Richardson. La storia di Pamela è quella di una dama di compagnia 16enne che lavora per Lady B. Quando Lady B muore, Pamela passa a lavorare per suo figlio, Mr. B. No Mr. Bean, Mr. B, che cercherà di sedurre la ragazza in ogni modo, tra cui quello di tenerlo prigioniera. Sì, come la bella e la bestia, il castello di Otranto, sì, loro l'affetto lo esprimevano così, che ci vuoi fare. Che poi, tra l'altro, Manzoni, quando parla del rapporto tra lo cielo e l'innominato, chiaramente aveva in mente questi tipi di sequestri di persona. Comunque, Pamela resiste alle tentazioni e mantiene intatta la sua virtù. Proprio grazie a questa sua castità, quando Mr. B chiederà davvero la sua mano, lei gli si concederà e vissero tutti felici e contenti. Patriarcato? Ma assolutamente sì! La miglior dote di Pamela è quella di essere casta. La promiscuità è il più grande peccato per una donna. E una volta che hai trovato una donna casta, che vuoi di più, insomma, non puoi pretendere nulla di più, stiamo parlando di una donna. Patriarcato puro, chiaramente, ragazzi, siamo pure nell'Inghilterra del Settecento. Tra l'altro, l'unico neo dell'orfanello generoso, del nobile orfanello Tom Jones, è proprio la promiscuità. Però a lui gliela si perdona, Fielding ne parla pure, ma senza mai condannarlo, insomma. È un maschio e caro che glielo si perdoni, bricconcello. Comunque, morale della favola, non importa tu da dove parti, che tu sia un trovatello, una donna delle pulizie, se ti impegni, il mondo sarà tuo. E questa lezione non appartiene solo alla letteratura inglese, ma in modi leggermente diversi, e non tanto diversi, ma in modi leggermente diversi, anche alla letteratura continentale. Il Villarifatto è la vita di Marianna di Mario, oppure Manolo Escot di Prevaux. E nel teatro mi viene in mente il Chris Peel rival del suo padrone di Rasage, e quindi chiaramente ispirato al teatro di Moliè e di Goldoni. Dipende tutto da te. Questa è la lezione della borghesia del Settecento. Gli autori successivi, però, tenderanno una strada totalmente diversa, tenderanno a sottolineare il determinismo. Se io sono nato povero, è molto probabile che io, povero, ci rimarrò. L'ascesa sociale raccontata nel romanzo borghese è una mistificazione, guarda caso, a vantaggio della borghesia stessa. Se io, borghese, voglio che tu sia povero, e soprattutto che tu, povero, ci rimanga, ma io mica ti vengo a dire che io voglio questo, io ti vengo a dire impegnati, il mondo sarà tuo. O forse, se non è stato così, forse non ti sei impegnato abbastanza, o forse sei stato sfortunato, non lo so, impegnati di più. La lezione del naturalismo e del verismo, in fondo, è questa. Se nasci povero, muori povero. Basti pensare al ciclo dei vinti, o in sola al ciclo del Ugon Marca. Naturalmente, non ci si arriva dall'oggi al domani, tra il Tom Jones di Fielding e l'Étienne di Germinane, di Zola, c'è tutta un'epopea ibrida, epopea di cui fanno parte anche grandissimi romanzi, grandissimi autori. Basti pensare, non lo so, in Francia, a Victoria Wu, a Stendhal, a Balzac, ma in Inghilterra, ad esempio, Jane Austen, nonché Charles Dickens. Cioè, l'orfanello Oliver Twist, o Piff di grandi speranze, è sì una storia di riscatto, ma non è tutto nelle mani dell'orfanello Oliver Twist. Oliver Twist riesce a redimersi, riesce a stare nel benessere, riesce ad arrivare al suo obiettivo, grazie all'aiuto di quei pochi personaggi benevoli, poi tra l'altro in contrasto con i tantissimi personaggi malevoli e grotteschi. Sto pensando alla moglie di Soverberry, ad esempio, ma se non fosse stato per i personaggi benevoli, quei pochi personaggi benevoli, ma sarebbe finito tutto a puttane, scusate il termine letterario, ma è questo, non è la storia di Oliver Twist, non è la storia di Tom Jones, e nel romanzo dell'Ottocento verista, appunto quello verista naturalista, invece no, ti va a dire proprio che, seppure con l'intervento dei personaggi benevoli, e ne vince pochi, sia a Zola che a Verga, a dire il vero, ma seppure questi personaggi benevoli fossero ingozzati in quei libri, comunque, chi nasce tondo, muore tondo, chi nasce tondo, non muore quadrato, chi nasce povero, muore povero, chi nasce vinto, muore vinto, e questa cosa, questo determinismo evoluzionista e sociologico, è anche in base alla nuova corrente del positivismo, insomma, la fine del Novecento è questa, però, questo romanzo, leggiamo Flavia Mariotti, entra nel Novecento in condizioni di salute precarie, il suo stato di crisi è registrato con preoccupazione, tanto dai romanzieri, quanto dai critici, mancano i segni chiari di un rinnovamento, pesano su di esso da un lato l'intrinseca schiavitù all'aneddoto della storia da raccontare, dall'altro realità inglombrante della grande narrativa ottocentesca da Balzac a Zola, che sembra aver vincolato definitivamente il genere ai canoni estetici del modello realista e naturalista. E come si esce da questa crisi? Lo diciamo con le parole di Silvia Gocella. Nell'istante in cui, con un accostamento vertiginoso, si rendono confinanti le epifanie di James Joyce, in Gente di Dublino, con le intermittenze del cuore di Marcel Proust. L'epopea del Novecento non vede più un personaggio che agisce in un mondo, talvolta meccanicistico, talvolta teologico, no, no, l'epopea del Novecento presenta un personaggio, un eroe che piuttosto questo mondo lo crea, l'eroe del romanzo del Novecento crea il mondo e questo eroe può avere diversi volti. Il maledetto, stretto parente del genio dello Strumbondrung, viene in mente controcorrente di Usmas, o l'esteta e qui magari per noi italiani è più facile perché abbiamo un grande esempio che è quello di Gabriele D'Annunzio, però viene in mente naturalmente anche Oscar Wilde. E non dobbiamo, tra l'altro, dimenticare la poesia di questi decenni, la poesia dei poesi simbolisti o appunto detti maledetti. I viaggi di questi eroi sono simili tra loro. Descentier si rifugia dal mondo in un paesino campestre vicino Parigi, Pietro Maroni si rifugia per vivere in solitudine e acquistare la fama di santo, Donian Gray, ma anche Andrea Sperelli, Claudio Cantelmo, Stelio Effrena che va troppo veloce, vivranno sì la loro mondanità. Ma sempre come isolamento, come distacco dal mondo. Yau yu, abbattuta, Stelio Effrena che va troppo veloce, è divertente, yau yu, un punto per me. E gli emblemi di questo distacco dal mondo sono le opere d'arti, le suppellettili di cui questi protagonisti si circondano. pezzi d'arte di grandi valore, ma non solo. Descentier ad esempio compra una tartaruga, solo che i colori del guscio di questa tartaruga non si sposano bene con i colori dell'arredamento, allora cosa fa questo maledetto? Fa patinare d'oro il guscio della tartaruga, d'oro e di pietre prezioso, e naturalmente dopo questo trattamento, dopo questo trattamento, la povera bestia ci rimane. E questa è una scena di un grottesco inaudito, ma naturalmente in generale tutte le mutilazioni nella letteratura sono grottesche. E lo sono ancora di più se fatte in nome della bellezza estetica. È il principio del silenzio degli innocenti, ma anche della casa dei millecorpi viene in mente, film horror degli anni zero, dove la scena che più rimane impressa a tutti è quella in cui uno dei ragazzi protagonisti viene troncato in due e cuscito con la coda di un tonno. Ma voglio dire, anche il finale del film horror, uno degli archetipi del film horror, Fix, uno di noi, uno di noi. By the way, ricomponendoci, un volto tutto particolare che può avere questo eroe dell'epos novecentesco è quello dell'Inetto. L'Inetto è colui che è incapace di agire nel mondo, ma se abbiamo detto che l'eroe del novecento non agisce nel mondo quanto piuttosto il mondo lo crea. Quest'Inetto è un enorme cortocircuito perché si trova a creare un mondo in cui lui non può agire, in cui lui è paralizzato, anzi, un mondo a misura della sua paralisi e della sua inettitudine. E questo Inetto, che oggi abbiamo visto come è nato, può avere diverse declinazioni, ma queste diverse declinazioni, in particolare una particolare declinazione, sarà argomento del prossimo video. quindi accendi la campanella per non perdertelo. Se hai qualche dubbio scriviti pure nei commenti. Se questo video invece ti è piaciuto ti invito a condividerlo e noi ci vediamo prestissimo. Besos! Mua!